Si parla delle primarie, svisceriamo assieme all'avvocato Angiolini, benché di parte opposta, questo mi auguro che tu lo faccia serenamente senza invidia. Sì, l'invidia è un pochino in accesso, perché loro sono bravi. No, sono bravi, a me è piaciuto, ti dico la verità, anche se non vado a votare, a me è piaciuto che Renzi abbia sbancato, ti dico la verità. Anche a me, devo dire la verità. Perché io, se Renzi vince le primarie, io non vado a votare, Ma se Renzi vince le primarie, vado a votare. Sì, io ho apprezzato moltissimo Renzi e sono stata molto contenta che sia andato al ballottaggio. Se fossi stata di sinistra, l'avrei votato anch'io, sia perché è un ragazzo giovane, sia perché ha delle idee che condivido e che sono idee, diciamo, che non sono né di destra né di sinistra, ma sono idee obiettive e giuste. E quindi spero che possa vincere. Devo fare anche complimenti al comitato, a tutti questi ragazzi giovani che lo hanno sostenuto, perché evidentemente hanno saputo fare un buon lavoro. Ora io ti faccio una domanda politica. Siccome in provincia di Arezzo, ma in Toscana, la tendenza è quella di avere una supremazia di Renzi tale, a tal punto che non ci sarebbe stato il ballottaggio, perché col 60% ci sarebbe passato al primo turno. Che cosa succederà nel PD se vincerà Bersani? Renzi che fa? È vero che sta a zitto e buono? No, che sta a zitto e buono no, perché nella politica ci sono delle regole. Cioè chi ottiene, direi, un buon risultato, come probabilmente otterrà lui, anche se magari non riuscirà a vincere, ha il diritto di far sentire la sua voce. La sua voce in che cosa? Intanto nella scelta delle candidature per il Parlamento, cosa che non è da poco. E quindi farà valere il suo peso politico, quindi non dico di una corrente, perché poi di fatto è una corrente, in quelle che saranno le future scelte del partito. Ma ti dirò di più che il PD locale dovrà tenere anche molto in considerazione la vittoria di Renzi, perché il PD locale con il suo segretario Meacciti hanno fatto la campagna elettorale per Bersani. Bersani ha perso, quindi il partito democratico locale ad Arezzo è perdente rispetto a Rottamatori. Che penna direbbe, che figura di merda! Bravo, bravo, direbbe proprio bene. Fanfani su questo si è espresso, appena visto che Arezzo ha vinto Renzi ha detto no, perché lui era per Bersani, perché sapeva che vinceva Bersani, però ha detto subito no, in effetti c'è bisogno di aria di cambiamento. A proposito dei Fanfau, meravigliau, ha nominato Enrico, scusa non ti tocco il culo, per quelli da casa pensano che dopo non fa le facce. No, 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 ziti, ziti, ziti. Allora, ha nominato Enrico Valentini per il CDA di Nuove Acque. E chi è? Oh, questo lo voglio chiedere a te. Enrico Valentini, insomma, dice che è dipendente a Arpat prima del pensionamento, praticamente c'è un curriculum meraviglioso perché la nazione dice non ha fatto mancare il suo contributo ad altre associazioni comunque impegnate nei temi ambientali, che sono i CAI, quelli vecchini che vanno in montagna, è il club alpino italiano, il CAI e soprattutto gli amici della bicicletta. Prendi in giro. Guarda, guarda, gli amici della bicicletta. Ora, magari, noi non si sa, ma lui può essere anche iscritto al comitato delle lumbri senza frontiere. Sicuro. Potrebbe avere costituito l'associazione a sostegno dei loci feriti dopo le sagre, no? Io, vabbè, sicuramente Fanfani se lo ha nominato sarà una persona di valore, però io non l'ho mai sentito nominare, francamente. Oh, io vorrei chiudere su una notizia che riguarda Sallusti, il giornalista Sallusti, che, insomma, per fortuna non... No, sarà di arresti domiciliari, comunque c'è andata bene che non l'ha messo in galera. No, secondo me non so quanto ci guadagna con la Santa Anche in casa. No, no, non lo so. Perché ha gesto l'arresti domiciliari con la Santa Anche senza rendersi conto di chi ha in casa. Ma lui veramente vuole andare in galera, eh? No, no. Ah, ci credo. Sì, vorrei andare in galera. È stata la procura che ha proposto i domiciliari. Anch'io piuttosto di stare in casa con la Santa Anche andrà dentro. Pesa, eh. Senti, c'hai da saluto a qualcuno? No, tutte le trasmissioni che saluto? Per saluto a qualcuno? Chi saluto? C'hai qualcuno meno mato in casa? No, con l'influenza, con... No, francamente facendo gli scogniuri stiamo tutti bene. Sa fare un salutino a Fanfani? Io no, mi portano a se a Fanfani. A se fa un salutino a chi? Fagnone te. Ciao. Arrivederci.